Parliamo adesso del controllo di cedevolezza attivo, per cui la differenza tra attivo e passivo è quanto abbiamo appena detto, attivo che posso progettarlo, modificarlo con i guadagni del controllore, mentre passivo è una proprietà meccanica del dispositivo che ho considerato all'organo terminale piuttosto che delle trasmissioni. Qual è lo scopo di progettare adesso un controllo di cedevolezza? Lo scopo è quello di evitare quello che abbiamo appena visto, e cioè di evitare che il nostro controllore sia dipendente dalla configurazione. Quindi oggi noi continueremo a vedere solamente un controllo di posizione, perché abbiamo visto che un controllo di posizione può essere considerato come una molla. Quello che cerchiamo di ottenere adesso è che il nostro controllo di posizione sia indipendente dalla configurazione. Perché poi questo ci porterà a un discorso più completo domani, domani non facciamo esercitazione, ma domani continuiamo con la teoria. Che cosa ricordiamo, definiamo? Definiamo la matrice di trasformazione omogenea del cosiddetto tool frame, cioè il sistema di riferimento del tool, del dispositivo, o comunque quello dell'organo terminale, rispetto a quello desiderato. Utilizziamo questa simbologia. un attimo che la sincronizzazione ci ha abbandonato. un attimo solo, facciamo la solita operazione informatica avanzata. però facendo così ho perso il pdf, vabbè. Ok, allora ho ripristinato questo però ho perso il pdf, quindi comunque dovete aspettare un secondo. allora quello che abbiamo fatto è stato quindi di adesso introdurre questo nuovo, cioè nuovo, questa notazione, ma la matrice di trasformazione omogenea è sempre la stessa. Noi fino adesso abbiamo parlato di matrice di trasformazione omogenea dalla terna base fino all'organo terminale. adesso invece è quella fra l'organo terminale e quella desiderata. Ok? Come la calcoliamo? La calcoliamo come composizione di due matrici di trasformazione omogenee. Questo l'avete già visto anche quando abbiamo avuto bisogno delle matrici di rotazione. Cioè noi la calcoliamo quindi passando da terna base in the factor e base desiderata invertita. In questo modo noi abbiamo abbiamo da diciamo end factor a desiderata. La struttura è sempre la stessa della nostra matrice di trasformazione omogenea. Quindi la struttura è, questa è una matrice quindi 4x4 in cui questa qui è la matrice di rotazione 3x3, questo è il vettore posizione 3x1, poi questo è non scalare e questo è un vettore di elementi nulli 1x3. Ora questa matrice di rotazione è la matrice di rotazione che rappresenta, ho interrotto un'altra volta la sincronizzazione, che rappresenta il legame fra il, che rappresenta la rotazione necessaria per allineare l'organo terminale alla terna desiderata, è data dalla composizione di queste due matrici di rotazione. Dove abbiamo già incontrato questo concetto? L'abbiamo già incontrato quando abbiamo parlato dell'errore di orientamento, va bene? Per cui questo già lo avete visto. Invece chi è il vettore posizione? Guardate, il vettore posizione è il vettore posizione dall'origine della terna D all'origine della terna E, espresso in terna D, va bene? Quindi il D messo qui come apice sta a indicare questo. Cosa significa? Che io ho i due vettori posizione e devo semplicemente esprimerli nella terna D e so che questo lo posso fare con un'opportuna matrice di rotazione. Ora, qual è la novità? La novità è che io adesso definisco un errore nello spazio operativo rispetto, guardate, alla terna desiderata. Per cui l'errore adesso non è più in terna base, ma è il rispetto alla terna desiderata. Se io faccio questa cosa, io ottengo dei benefici dal punto di vista, diciamo, del controllo. Vediamo se riesco, però a me sembra che sia saltata la sincronizzazione un'altra volta, vediamo se riesco a caricare la pagina successiva e se no. Allora. Vediamo se va a recalcolare la pagina. Niente. Grazie, ho fatto ore e ore di lezioni a mio nipote che in un'altra città non ha mai avuto problemi. Solo quando faccio la lezione e la registro ha problemi. Gainboard. Andiamo su PDF. Vabbè, fatemi fare, perché poi se riesco da qui devo un'altra volta ricaricare tutto quanto il PDF. Infatti è lui il problema adesso. Adesso sta sincronizzando. Va bene. Allora, però questo significa che mi ha perso il PDF e lo devo ricaricare un attimo su uno. Facciamo così. Passiamo la mattinata così. Ok. Allora, la dinamica del nostro, di questo diciamo nuovo errore, di questo nuovo errore, questo x tilde punto, la posso rappresentare tramite, guardate, fatemi prima, diciamo, evidenziare questa parte qua. La posso rappresentare tramite questa, un'opportuna espressione in cui ho uno jacobiano per q. Guardate chi è, chi sono questi oggetti. Ricordiamo che noi sappiamo lo jacobiano che abbiamo studiato, lo jacobiano è una cosa del tipo x punto uguale lo jacobiano analitico per q punto, oppure v omega è uguale lo jacobiano geometrico per q punto. Abbiamo imparato quindi che lo jacobiano è un'opportuna matrice, configurazione dipendente, che rappresenta una trasformazione fra le velocità ai raggiunti e delle opportune velocità all'organo terminale. Allora, a questo punto, così come abbiamo imparato a, diciamo, convivere con due jacobiani diversi, uno analitico che mappa q punto nella derivata di posizione e orientamento e lo jacobiano geometrico che mappa q punto nella velocità lineare e velocità angolare, quindi è un concetto diverso solamente per l'angolare, perché invece per la velocità lineare è proprio la derivata della posizione. Adesso impariamo, diciamo, impariamo, oppure comunque accettiamo questa cosa, che noi possiamo avere un altro jacobiano che mappa cosa? Beh, mappa il nostro q punto, lo mappa in che cosa? Beh, è un'altra derivata di un opportuno errore che io ho introdotto, questo x tilde punto. Questo jacobiano non comporta, e che ha pedice ad, non comporta nessuna difficoltà di calcolo, perché questo jacobiano è uno jacobiano che io ho nel momento in cui calcolo. quello geometrico, la rotazione da desiderato a terna base, e questo è un dato del mio problema di controllo, e poi ho la trasformazione, la cui espressione io conosco, fra jacobiano geometrico e analitico calcolato con l'orientamento fra d e d. per cui dal punto di vista, diciamo, implementativo, io rispetto allo jacobiano geometrico, aggiungo due righe per calcolare questi due. Per cui dal punto di vista, diciamo, implementativo, non ho particolari problemi. dal punto di vista concettuale, è sufficiente che io comunque associ questo jacobiano a un oggetto che svolge lo stesso ruolo degli altri che abbiamo visto. Quindi è una mappatura fra l'ecco punto e un'opportuna velocità all'organo terminale. Ma allora, io che cosa posso fare? Posso, questo qui, diciamo, me lo fa levare. Sì, che cosa posso fare? Posso, a questo punto, definire una nuova legge di controllo, U è uguale, compensazione di gravità, e poi guardate, la mia legge di controllo è uguale a quella che ho già visto, Kpx tilde, solamente che al posto di, dello jacobiano, c'è questo nuovo jacobiano che ha anche il segno diverso, c'è questo meno davanti, ok? Per cui, e poi il termine in Q punto, che è analogo a quello precedente, e ovviamente, poiché il G cambia il segno, anche questo cambia il segno. Quando noi andiamo a levare l'interazione, quello che noi possiamo osservare è che, diciamo, la legge di controllo è la stessa del caso precedente. Possiamo studiare... Possiamo studiare la stabilità di questo oggetto, e vi consentite, diciamo, di saltare i passaggi, e di arrivare direttamente a vedere che, diciamo, a steady state, cioè a regime, quello che io ottengo è, diciamo, ancora questa relazione qua. Ma questa relazione qua, poiché questo, diciamo, è... Questo nuovo jacobiano so che è rappresentato, diciamo, da questa espressione che è già trasposta, questo mi consente di semplificare e di ottenere, alla fine, questa relazione. Ok? Ora, vediamo, continuiamo il nostro ragionamento. Quindi questo qui, che cosa ho fatto? Ho fatto l'Avunov, ho calcolato la derivata, ho visto quando la derivata, diciamo, è semidefinita negativa, è minore o uguale di zero, ho visto il punto di equilibrio. Il punto di equilibrio corrisponde a, diciamo, questa equazione qui. Ora, semplifico, sostituisco al posto, diciamo, del jacobiano strano la sua definizione. Vado a semplificare con l'aggetrasposto e ottengo questa relazione qua. Continuiamo il ragionamento. E che cosa ottengo? Allora, se io, diciamo, la riscrivo in termini, e sincronizzato, sì, di spostamenti elementari, quello che io ottengo è che questa cosa qua può essere scritta come h con e è uguale kp per lo spostamento elementare fra la terna in the factor e quella desiderata. E questa è la rigidità fra i due tool. tra il tool e quello desiderato. Un attimo solo. Ora, che cosa significa che io, diciamo, ho questa relazione? Beh, prima di tutto, chi è h con e? Adesso noi diciamo, guarda, h con e, tu lo puoi scegliere, tra virgolette, come vuoi tu. Per esempio, h con e, puoi immaginare che il tuo ambiente sia a sua volta una molla, e questa è l'ipotesi che faremo spesso, per cui il tuo ambiente reagisce come una molla rispetto a una posizione di riposo, rest, R come riposo, che cosa significa? Immaginate che voi avete un piano, ok? Quindi questo qua è il vostro ambiente cedevole. Nel momento in cui voi spingete questo piano e lo spostate, quindi diciamo che questa è la posizione del piano, questo spostamento, che è DXRE, perché l'organo terminale l'ha spostato da qui a qui, reagisce con una forza nella direzione opposta, quindi reagisce con una forza in questa direzione, che è pari proprio a K per DXRE. Ok? Quindi noi stiamo facendo l'ipotesi adesso che la forza esterna h con e venga a sua volta da un ambiente che si comporta come una molla, con una rigidezza semidefinita positiva. Perché semidefinita positiva? Perché se voi guardate questo piano qui, reagisce solo in questa direzione. In questa direzione non ci sta nessuna molla, per cui in questo caso noi avremo zero nelle direzioni in cui il nostro ambiente non reagisce, e poi invece il valore della molla nelle direzioni in cui reagisce. Per cui questo è il motivo per cui noi lo consideriamo semidefinita. Ok? Allora che cosa significa? Significa che io ottengo che, andando a fare tutte le varie sostituzioni, posso calcolare la forza a regime dell'ambiente, che è legata a che cosa? Allo spostamento rispetto alla posizione di riposo dell'ambiente, e l'errore dell'organo terminale. Che cosa stiamo ottenendo? Beh, stiamo ottenendo come risultato qualcosa che adesso lo vediamo con un caso numerico, è abbastanza intuibile, cioè l'intuizione sarà molto più chiara. Noi stiamo ottenendo che la mia posizione all'organo terminale è uguale a che cosa? Beh, ha una sorta di strana combinazione fra il Kp del controllo e il K dell'ambiente rispetto alla posizione, diciamo, del mio ambiente di riposo rispetto a quella desiderata. Ok? In qualche modo stiamo vedendo delle molle che interagiscono fra di loro. Ok? Vediamo un attimo che interagiscono e quindi, diciamo, l'effetto finale è un confronto fra le rigidezze. Ok? Vediamo un attimo questa cosa. Allora, prendiamo il nostro planare a due bracci e cerchiamo di vedere un attimo che cosa stiamo chiedendo. Prima di tutto, se vedete, qui c'è X con R a sinistra è la posizione di riposo dell'ambiente. Poi c'è questo X desiderato più a destra che è la posizione desiderata che io sto dando al controllo e poi, in questo momento, l'organo terminale si trova in X con E. Quindi io sto spingendo l'ambiente. Va bene? Quindi questa è la mia interazione. Qual è il K, la rigidezza dell'ambiente? La rigidezza dell'ambiente è solamente un coefficiente elastico, una molla, una rigidezza, lungo X ed è 0 lungo Y. Va bene? Perché se io mi muovo lungo Y, non sto eccitando nessuna reazione di tipo molla da parte dell'ambiente. Il mio Kp, io l'ho progettato, invece, ovviamente, definito positivo. Quindi c'è un KpX e un Kpy. A regime, applico le formulette che escono fuori dal mio controllo, a regime io che cosa ottengo? Che, vediamo prima la posizione dell'organo terminale che viene raggiunta. La posizione che viene raggiunta lungo Y è proprio Y desiderato, perché l'ambiente non sta reagendo lungo Y. Invece, lungo X, io ottengo una cosa un po' strana. ottengo, guardate, un Kp per X desiderato più Kx per la posizione di riposo, quindi questa qua è la molla, diciamo, dell'ambiente, diviso la somma delle due rigidezze. In qualche modo, la posizione all'organo terminale rappresenta, diciamo, un compromesso fra le due posizioni di riposo e quella desiderata, pesata tramite la rigidezza del controllo e la rigidezza dell'ambiente. Con la forza che, alla fine, a regime l'ambiente esercita sul manipolatore, la cosa è ancora più chiara. Che cosa ho? Che la forza sarà proporzionale alla differenza fra desiderato o meno riposo e poi a meno di che cosa, guardate, una combinazione delle due rigidezze. In particolare, e io voglio, diciamo, studiare la situazione, guarda, tu hai un ambiente molto cedevole e un controllo molto rigido. Vogliamo fare un esempio, un robot industriale che spinge su un cuscino. Quindi, che cosa succede al regime? Beh, al regime succede che la posizione dell'organo terminale è circa quella desiderata e la forza scambiata è semplicemente la reazione del cuscino rispetto a questo spiazzamento, quindi sarà anche molto bassa. Quindi l'intuizione finale è assolutamente semplice. Se io ho un manipolatore rigido con un ambiente cedevole, pensate a un cuscino, io ti vado fino quasi alla posizione desiderata, ovviamente, no? Invece, se io mi mettessi nella situazione opposta, ho un manipolatore molto cedevole, vuol dire che ho progettato un guadagno di posizione molto basso, immaginate il vostro Iaco, che debba spingere sulla parete del laboratorio. Va bene? Quindi molto rigido, un K molto alto. Che cosa significa? Che a regime io rimango praticamente attaccato alla posizione di riposo, cioè io non ho proprio spinto la parete. E la forza è data da quanto io ho spinto per il Kp del controllo. Va bene? Quindi l'interpretazione di questa, diciamo, legge di controllo è abbastanza semplice. Ok, allora, rivediamo un attimo, perché, diciamo, alla fine abbiamo fatto tanti conticini. Rivediamo un attimo. Io che cosa ho fatto? Ho modificato il mio controllore PD più compensazione della gravità nello spazio operativo. Ok? Questo è tutto quanto nello spazio operativo. Utilizzando un nuovo Iacobiano. Cosa ho ottenuto? Perché poi alla fine, diciamo, tutti questi conti che ci hanno portato, ci hanno portato a rendermi indipendente dalla configurazione nel legame, che è sempre un legame di tipo molla, fra la forza espressa all'ordine terminale e la posizione. Va bene? L'esempietto numerico, diciamo, dovrebbe, spero, chiarire il legame fra il Kp del controllo e il K del ambiente. Parliamo solo di molle. Guardate, non abbiamo transitori, non qua, non sono entrati in gioco i transitori. Abbiamo fatto un discorso molto semplificato su cosa succede al regime. Dopodiché, io, diciamo, per curiosità, dico, ma se io avessi voluto fare, implementare il PD più compensazione o gravità nello spazio aggiunto, cosa avrei ottenuto? Beh, io non dedico più di 10 secondi a questa cosa, perché sarebbe venuto configurazione dipendente anche per la componente lineare. Quindi, se qualcuno di voi si stava chiedendo ma perché siamo andati subito nello spazio operativo, perché nello spazio dei giunti noi non avremmo ottenuto una indipendenza dalla configurazione in maniera semplice. Non so se magari giocandolo con le equazioni magari si potrebbe pure ottenere qualcosa, però, diciamo, sarebbe estremamente complesso. Per cui, a me fa piacere così farvi vedere questo 10 secondi. Siamo dovuti andare in uno spazio operativo per questo motivo. Ok. Finiamo con dei video. Questi video, diciamo, ci tengo a farvi vedere dei video storici, nel senso che noi, i video che vi faccio vedere sono accumulati nel corso degli anni e ogni tanto ne aggiungo, sono tendenzialmente recenti. Però queste cose ovviamente sono lì da molti anni, indipendentemente da quanto uno poi ci fa un video carino vicino. E mi fa piacere farvi vedere un setup che non esiste più, che è quello per cui ho fatto la mia tesi di laurea, che è questo. Allora, questo era, diciamo, questa bella cover fatta con un foglio A4 stampato e messo davanti alla telecamera analogica, ok? Il motivo per cui è così sgranato è che questo è stato riversato e nel frattempo la videocassetta si era già anche un po' corrotta. Allora, vediamo che succede. Vediamo solamente un attimo del setup sperimentale. Sì, ce la facciamo. Ok. Allora, questo setup sperimentale diciamo, costruito a Napoli nei primi anni 90, all'epoca era, poneva, diciamo, quel laboratorio sicuramente fra i più avanzati in Italia ma anche a livello internazionale. Se vedete, qui è stato costruito un massetto di cemento perché questo è un robot industriale a segra di libertà, un Comaio Smart 3S che non è più in produzione e per, diciamo, questioni ovviamente statiche è stato necessario costruire un massetto di cemento. Poi l'altezza è stata scelta per farla avere simile a questa. E qui c'è anche una slitta, quindi questo altro robot ha 7 gradi di libertà. Va bene? Quindi, va bene, qua insomma c'è semplicemente un piano. Poi, Comaio è passato a un altro colore e mi hanno pagato una consulenza per, questi qui sono dei fantastici, questi qui sono dei fantastici, adesso non ricordo se i386, insomma, dei processori che erano più lenti di quelli che avete su, che abbiamo sui cellulari. E qui abbiamo delle schede che sono state progettate ad hoc per bypassare la cabina di controllo industriale del robot, perché questi sono proprio robot industriali, non erano stati proprio pensati per farci qualcosa. Per cui, in maniera assolutamente innovativa si passava a poter dare le correnti ai motori e, diciamo, controllare il robot in maniera adatta a un laboratorio per perci fare delle cose. E questo è un collega che è ancora a Napoli, ma con qualche anno in più. Ok? Noi dobbiamo controllare sottodosso. Questo è il sensore di forza, forza e momento a segra di libertà. Allora, vi faccio vedere la compliance e quello che dobbiamo notare in questo video è che se utilizziamo dei guadagni ampi abbiamo un robot rigido con chiaramente un buon inseguimento di traiettoria. Però è rigido e rigido significa che poi va bene per il controllo del moto ma non per l'interazione. Se invece abbassiamo i guadagni del controllo allora noi otteniamo un robot che è cedevole però poi stiamo perdendo nel inseguimento del moto. Per cui alla fine in qualche modo noi dobbiamo ottenere entrambe le cose non possiamo abbandonare così la battaglia del controllo del moto per essere cedevole. Questo che vediamo adesso è diciamo la stessa cosa che si può vedere in maniera più o meno graficamente molto più attraente in cose recenti. Allora guardate adesso lui che cosa sta facendo sta banalmente toccando il robot che è acceso e il suo riferimento è stai fermo una persona con una mano non riesce neanche a muoverlo ok quindi questo lui è acceso e ha un controllo di posizione riuscite a percepire qualche piccolo movimento che è dato soprattutto dalle trasmissioni e questo è un normale robot industriale diciamo ora questo robot esegue una circonferenza nel cartesiano parallela al punto di vista dell'operatore con certi guadagni ora i guadagni sono stati abbassati e guardate che diciamo adesso la forza del braccio è sufficiente a muoverlo e quando voi lo fate sentite proprio una molla di richiamo che sarebbe il controllo quando lui lo sposta torna nella posizione desiderata vedete quindi non sta succedendo nulla di strano ed è semplicemente il controllo dell'uomo adesso la stessa circonferenza viene percorsa con i guadagni più bassi e quello che noi vediamo sono i due diciamo inseguimenti questo forse è Matlab sotto TOS ma non sono sicuro quello che noi vediamo sono i due percorsi con i due set di guadagni chiaramente questa linea rossa qua che si vede sta ad indicare che il nostro inseguimento con guadagni scarsi diciamo si è deteriorato troppo bene per cui l'interazione ci chiede ci chiede delle specifiche che sono diverse da quelle del controllo del moto e dobbiamo fare attenzione quando andiamo a progettare a capire bene noi di che cosa abbiamo bisogno bene quindi che cosa abbiamo visto oggi abbiamo visto un po' diciamo vabbè l'introduzione dell'interazione abbiamo visto un po' chiedo scusa dove siamo qua abbiamo visto un poco un controllo che viene cosiddetto di cedevolezza anche se io non sono proprio favorevole a utilizzare il termine controllo di cedevolezza come se fosse un controllo dell'interazione perché noi stiamo abbastanza ignorando l'interazione questo è un controllo del moto e vediamo che diciamo se andiamo a sbattere con qualcosa ci comportiamo al regime come se fossimo una molla cambiando il controllo per esempio più compensazione di gravità ma comunque cambiando la definizione di errore noi siamo arrivati ad ottenere un controllo indipendente dalla configurazione nello spazio cartesiano ma non ci piace non ci basta domani vedremo un controllo di impedenza in cui noi cominciamo a ottenere dei risultati che hanno un significato diverso e che sono un po' più soddisfacenti ok domande su quello che abbiamo visto un po' un po' Grazie.